Ciao amici e bentornati nel canale di Mariella Fantasy. Come potete vedere inquadrata questa è una gallinella. Siamo vicini alla Pasqua per cui personaggi simili come la gallina o il pulcino ricorrono nei nostri regalini insieme alle uova artigianali dipinte a mano oppure le uova di cioccolata. Io oggi voglio presentarvi come realizzare questa gallina con della lana acrilica di media grandezza. Io in questo caso sto utilizzando come vedete inquadrata la marca della Mondial Crilly che è una lana grossa tanto da richiedere l'uncinetto numero 4 ma io utilizzerò il 3,5 potrei anche spingermi al 3 se volessi per fare una lavorazione più fitta più stretta poi come colori che dovete utilizzare il bianco panna per il corpo della gallina l'arancione per il becco e per le zampe il rosso per la cresta e un filo scuro o marrone come come ho preso io oppure questo grigio qui per gli occhi della gallina ovviamente le nostre forbici e l'ago della lana mettiamoci subito al lavoro. Allora prendiamo il bianco. Per quanto riguarda l'imbottitura utilizzeremo dell'imbottitura per cuscini. Ok prendiamo subito il bianco il bianco panna mettiamo da parte gli altri gomitoli che non ci servono ed iniziamo con il solito cerchio magico così. È tutta una lavorazione con maglia bassa da migurumi per cui noi riprendiamo il filo e all'interno del nostro cerchio magico lavoreremo 6 maglie basse molto fitte. 1 2 3 4 5 e 6 dopodiché tiriamo la codina e stringiamo più che possiamo. A questo punto noi avvieremo una serie di giri di aumenti fin quando non stabiliremo la grandezza della testolina. Io adesso avvierò i miei giri di aumenti vi accenno come si lavorano gli aumenti quindi partendo da una base di 6 maglie basse non chiudiamo il giro con una maglia bassissima ma continuiamo a lavorare in tondo quindi cerchiamo la prima maglia bassa ad inizio giro prendiamo il filo e continuiamo a lavorare una maglia bassa quindi all'interno adesso di questo primo giro di aumenti noi all'interno di ogni maglia bassa lavoreremo due maglie basse si chiama giro di raddoppi per cui da 6 maglie basse di partenza in questo giro di raddoppi ne avremo in totale 12 quindi 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 11 e 12 questo è il primo giro di aumenti procederemo adesso con altri giri di aumenti in questa maniera quindi io vi allegherò nel link nell'infodescrizione il link per la lavorazione delle palline che si basano appunto sul criterio di aumenti e diminuzioni sempre partendo da una base di 6 maglie basse per cui qualora volete ritornare alla descrizione degli aumenti e delle diminuzioni cliccate sul link nell'infodescrizione così eviterete di andare a seguire di nuovo tutto il nostro video qui presente allora per quanto riguarda il secondo giro di aumenti si lavorerà con una doppia ed una singola fino ad un totale di 18 maglie basse da 6 di partenza che ne avevamo poi 12 e poi 18 quindi abbiamo detto su una maglia bassa di base lavoriamo 2 maglie basse a seguire una sola maglia bassa sulla maglia bassa che segue quindi lavoreremo un'alternanza di una doppia e una singola una doppia e una singola così via fino alla finire il giro fin quando non otterremo noi 18 maglie basse quindi queste sono 3 4 5 e 6 7 8 e 9 e poi continueremo fin quando non otterremo la larghezza della la testa io adesso continuerò con i miei giri di aumenti quindi il giro successivo sarà una doppia e due singole l'altro ancora una doppia e tre singole ma comunque sia io mi fermerò nel momento in cui stabilirò la grandezza ideale della testolina e la mia gallina per cui ci vediamo in quel momento vi dirò a che tipo a che giro di aumento sono giunta cioè quante singole dopo il doppio ecco sono giunta ad un totale di 30 maglie basse questo significa che l'ultimo giro di aumenti è costituito da un'alternanza di una doppia e tre singole fino ad un totale di 30 maglie basse giunti qui ad un totale appunto di 30 maglie basse ci occorrerà ci occorrerà un filo di contrasto di colore di contrasto quindi prenderemo un aspettate che ho tante codine ne prendo una scura come questa per esempio marrone perché adesso dovremo andare ad affrontare un certo numero di giri di ripetizione e per individuare il segnale di qual è l'inizio qual è la fine del giro metteremo un filo a contrasto oppure se avete i segni a giri li potete anche mettere quei gancetti che poi si chiudono ok a questo punto noi non faremo più aumenti ma proseguiremo sempre mantenendo le nostre 30 maglie basse per un certo numero di giri normalmente sono 4 o 5 giri però tutto dipende dalla grandezza della circonferenza del cranio di questa testolina di gallinella quindi ci vediamo al termine dei miei giri fin quando non sono arrivata al numero di giri ideale per avere la forma sferica della testolina eccoci qui per comunicarvi che ho completato 6 giri di ripetizione arrivati al 6 giri di ripetizione dobbiamo iniziare a fare le riduzioni perché questa testolina sia sferica chiaramente allora come si lavora? l'ultimo momento se ben ricordiamo era costituito da una doppia e tre singole adesso noi faremo una riduzione e tre singole per cui per avere poi alla fine un totale di 24 maglie basse iniziamo subito da qui una due tre e quattro cinque sei sette e otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici dici 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 sette diciotto diciannove venti ventuno ventidue ventitré e ventiquattro il successivo giro di riduzione invece sarà una riduzione e due singole per un totale di diciotto maglie basse ci ritroviamo quando abbiamo ottenuto nei nostri giri di riduzione dodici maglie basse giunti quindi alla dodicesima maglie bassa allunghiamo l'asola e dobbiamo cominciare ad imbottire questa pallina prendiamo la nostra imbottitura da cuscini e cominciamo ad inserirla all'interno in questa maniera con le dita e magari aiutandovi per distribuire meglio in tutta l'interno col dito ok io sono soddisfatta a questo punto ultimo giro di diminuzioni quindi se l'ultimo è stato una riduzione a una singola fino ad ottenere dodici maglie basse adesso faremo tutte riduzioni quindi saranno sei riduzioni per cui una due tre quattro cinque ultimo e sei a questo punto lasciamo il filo lungo non lunghissimo ma lungo perché ci servirà adesso vi mostro a cosa intanto facciamo una chiusura di sicurezza togliamo questo segnaletto che poi ci servirà anche per fare il bus il corpicino della nostra gallina lo sfidiamo così prendiamo il nostro ago della lana e stabiliamo e stabiliamo gli occhi come potete vedere nella mia gli occhi della gallina sono molto vicini alla testa per cui inseriremo da sotto intanto io per esempio a me piace ridurlo di più questo foro quindi posso stringerlo un altro pochino ecco fatto così dopo di che entriamo da sotto e raggiungiamo il punto che abbiamo dedicato ai nostri occhi quindi esempio questo questo qui vedete idealmente se voi tirate una linea che è di mezza questa in due semisfere dovete dividere ancora a metà la metà sfera la mezza sfera e lì posizionare l'occhio poi come se vi portate dentro un'altra maglia bassa a quel punto con le dita simulate dove che volete fare gli occhi di questa gallina quindi raggiungiamo l'altra estremità sempre sulla stessa linea e tiriamo anche qui un'altra maglia bassa di lato e torniamo nell'altro occhio nel quale siamo entrati ovviamente c'è l'imbottitura che ci crea una resistenza ma noi dobbiamo riuscire ad arginarla ecco perché poi qui dentro in queste cavità noi faremo delle palline di lana e gliele inseriremo per fare gli occhi ecco fatto a quel punto ritorniamo nel foro al di sotto della testa perché ciò che conta negli amigurumi è sempre nascondere bene i fili vediamo se ce la faccio a questo punto dobbiamo procurarci il filo rosso e per creare la testa la cresta anzi alla nostra gallina e i bargigli noi dobbiamo fare una catenella lunga per quanto lunga deve essere la cresta della nostra gallina una due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e ogni tanto la adagiamo per misurarla dieci consideriamo anche il becco che poi dal quale parte poi la cresta quindi esatto possiamo anche fermarci a dieci catenelle quindi lavorate le nostre dieci catenelle cominciamo a fare il queste la cresta proprio della di questa parte rosso di questo elemento rosso della gallina alziamo quindi dalla prima catenella alziamo altre due catenelle anzi tre prendiamo due volte il filo e nella catenella di base nella stessa lavoriamo una doppia maglia alta due volte il filo nuovamente sempre nella stessa catenella di base un'altra doppia maglia alta lavoriamo una due tre catenelle entriamo nella catenella di base prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima così adesso ci portiamo nell'altra catenella accanto chiudiamo con una maglia bassissima e anche qui dobbiamo alzare una due e tre catenelle stavolta lavoreremo maglie alte sempre nella stessa catenella di base una e due tre catenelle una due e tre cerchiamo la catenella di base prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima ci spostiamo nell'altra catenella accanto prendiamo il filo chiudiamo con una maglia bassissima e di nuovo alziamo tre catenelle sempre nella stessa catenella di base lavoriamo una maglia alta due maglie alte una due tre catenelle cerchiamo la catenella di base entriamo prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima adesso vi mostro già come verrebbe così la nostra cresta vedete in queste tre catenelle che restano noi lavoriamo invece mezze maglie alte quindi cerchiamo sempre la catenella libera entriamo chiudiamo con una maglia bassissima due catenelle filo sull'uncinetto entriamo e lavoriamo una mezza maglia alta due mezze maglie alte una e due entriamo chiudiamo con una mezza maglia bassa e poi nell'altro accanto e di nuovo lavoreremo una e due le nostre mezze maglie alte quindi come vedete alla fine di altre due catenelle ne è rimasta solo una perché il tutto è stato recuperato a questo punto noi stringiamo perché già si è chiuso da sé con la mezza maglia bassa alta per perdon prendiamo la nostra testolina e possiamo cominciare noi a cucire la nostra cresta intanto lasciamo il filo rosso lungo lo tagliamo perché ci serve per cucirlo chiudiamo con una catenella di sicurezza facciamo con la codina due nodi una e due e cominciamo a fissare con la codella lana allora nascosta la codina a questo punto la parte della cresta quella più grossa con le doppie maglie alte la mettiamo dietro la parte invece con le mezze maglie alte la mettiamo sul davanti in previsione del becco che noi metteremo quindi deve partire la cresta dove inizia praticamente il becco quindi io per esempio prendendo lo spunto della mia gallina vedete la testolina è più piccolina quindi ho esagerato con i giri potevo fermarmi a 24 maglie basse l'ho fatta più grande va bene mi verrà una bella gallinona allora se il becco è qui in questo punto quindi io inizio dunque a fissare la cresta facendo dei dei punti ora da una parte e ora dall'altra fatta la nostra cresta e la nostra gallina adesso ci andiamo ad occupare del becco quindi andiamo a prendere l'arancione prendiamo il filo al solito facciamo il nostro cerchio magico inseriamo l'uncinetto e lavoriamo all'interno di questo cerchio magico una due tre e quattro maglie basse stringiamo con la codina così e adesso senza fare aumenti e questa è la parte più complicata perché tirerà un pochino dobbiamo riuscire a fare un giro di queste quattro sempre lavorando in tondo queste quattro maglie basse una due tre e quattro vedete che si è formato un piccolo cono questo piccolo cono adesso se lo vogliamo fare più lungo continuiamo i giri oppure ci fermiamo semplicemente qui io per esempio lo voglio fare un po' più lungo mi piace il becco più lungo e quindi continuo un altro un altro giretto così una due tre e quattro e adesso sì possiamo staccare il filo lasciare il filo lungo e cucire il nostro becco e cominciamo a fissarlo vedete sulla stessa linea dove sono i fossi per gli occhi e cominciamo piano piano a fissare il nostro becco e questo è il nostro becco della nostra gallina adesso ci occupiamo degli occhi per gli occhi della nostra gallina ci dobbiamo procurare un filo marrone scuro dopo di che fare una catenella anzi no il nostro mentre faccio la catenella vedete il filo col dito col pollice allungo chiudo entro dentro nuovamente come se avessi fatto una maglia bassa praticamente a questo punto taglio il filo lungo lo taglio abbastanza lungo vedete inserisco l'uncinetto alla base di questa sorta di nodo che ho fatto praticamente e strago il filo ho fatto già un occhietto come potete vedere con l'altra codina io mi assicuro che non si sciolga facendo un altro nodo così dopo di che io lo taglio così prendo l'ago della lana e comincio a posizionare questa che per me è una pupilla dentro questa cavità ecco qui la mia prima pupilla dopo di che dobbiamo creare l'altra cosa facciamo prendiamo l'uncinetto mi aggancio ad una qualsiasi maglia bassa all'interno della cavità strago il filo e faccio una catenella poi ne faccio un'altra ritorno nella prima maglia bassa chiudo dopo di che prendo l'ago della lana quindi ho fatto una sorta di catenelle sono rientrata dentro per creare lo stesso spessore della prima pupilla quindi non è diciamo un punto che è chissà che punto ho fatto potete anche fare dei nodi prima di posizionare l'importante è fare delle palline piccoline che poi andate a posizionare al posto delle pupille nel momento in cui abbiamo terminato prendiamo il filo entriamo dentro ed usciamo alla base della nostra testa sempre cercando di scansare l'imbottitura interna che ci fa dar resistenza ed ecco qui realizzati gli occhietti della nostra gallina adesso non ci rimane che realizzare i bargigli queste due protuberanze rosse come si realizzano allora prendiamo la lana rossa riprendiamo lavoriamo facciamo un cerchio magico inseriamo l'uncinetto ve ne faccio vedere uno perché l'altro è identico facciamo una catenella all'interno una maglia bassa stringiamo il cerchio magico facciamo una catenella e voltiamo il lavoro facciamo altre due catenelle e anche un'altra ancora se lo vogliamo realizzare più grandi più evidenti due volte filo sull'uncinetto all'interno di questa stessa maglia bassa dobbiamo fare una doppia maglia alta ancora un'altra e ancora un'altra quindi abbiamo fatto 4 catenelle 3 doppie maglie alte e per concludere di nuovo le nostre 4 1 2 3 e 4 catenelle ritorniamo sempre nella stessa maglia bassa di base e chiudiamo in questa maniera dopodiché non dobbiamo fare altro che fare l'altra e andarla a cucire sotto il becco e le cominciate a cucire sotto proprio il becco una a sinistra e l'altra a destra e questa è la testolina della nostra gallinella adesso ci rivediamo nella seconda parte dove creerò io il corpo le zampe la coda e le due ali ci vediamo nella seconda parte a dopo amici ciao ciao